Oggi siamo nella sede di Genova dell'Accademia della Marina Mercantile insieme al direttore generale Paola Vidotto. Benvenuta, anzi grazie per averci ospitato presso la vostra sede. Grazie a voi per essere venuti a trovarci e darci la possibilità di raccontare questa esperienza. Innanzitutto, direttore o direttrice in ambito di Marina Mercantile? Io non mi formalizzo molto sull'aspetto esteriore del termine. Va bene sia direttore che direttrice. Direttrice forse è più consono. A questo proposito, ovviamente parliamo anche del percorso di questi anni. Lei è direttrice dalla 2019, subito la pandemia e poi ora una ripresa della normalità. Come è cambiato anche il vostro modo di fare formazione e di portare avanti questo percorso, soprattutto di studi per tantissimi ragazzi e ragazze che si vogliono inserire in questo mondo lavorativo? Sicuramente la pandemia ci ha lasciato delle eredità, con qualcuna anche positiva. L'utilizzo della formazione online a volte può ancora adesso essere un ausilio importante. Di fatto essere ritornati in presenza comunque ha migliorato. Le possibilità dei ragazzi di venire in contatto diretto con questo mondo, questa realtà, di conoscerlo, anche perché con il percorso di ITS è fatto di molta presenza all'interno delle aziende oppure a bordo e questa non è facilmente sostituibile. Per immaginario collettivo il vostro è un mondo prettamente maschile. Ecco, come ci si trova ad occupare un ruolo comunque importante di direttore generale in un ambiente di questo tipo? Come viene accettato? C'è ancora un po' di problematicità dal punto di vista nel concepire una donna in un ruolo importante come il suo? Onestamente non ho incontrato grandi difficoltà. Vero è però che quando ci si trova a tavoli ristretti la presenza femminile è sempre molto ridotta. È molto facile arrivare fino ad un certo punto, poi quando si arriva a posizioni manageriali, allora gli uomini fanno sempre un passo avanti a noi. Credo che sia una questione di tempo, una questione culturale e che fra un po' di anni non sarà più così la realtà. Ma come tutti i processi culturali non sono immediati. La trasformazione è avviata, di questo ne sono sicura. Si parla spesso e volentieri di parità di genere. Nel mondo dell'Accademia di Marina Mercantile qual è la percentuale di donne che intraprendono questo percorso, giovani donne che scelgono un percorso che nei secoli è prettamente un percorso maschile? È in crescita oppure siamo ancora indietro? La crescita c'è, è graduale, lenta ma costante. Anche perché questo mondo connotato come mondo tipicamente maschile si sta modificando. Pensiamo solamente a una nave, una sala macchina. Una volta la sala macchina richiedeva da parte dei lavoratori anche tutta una serie di sforzi a livello fisico. Ora si tratta di sale macchine completamente automatizzate che richiedono molta intelligenza e meno manualità. Quindi qui le donne hanno veramente buon gioco. Deve passare questa immagine. Ora pensiamo ancora per esempio all'ufficiale di macchina come all'uomo coperto di grasso con la tuta sporca. In realtà non è così e piano piano questo arriva. Arriva per quanto riguarda il mondo della nave, quindi ufficiale di coperto, ufficiale di macchina, ma anche per tutte quelle professioni del mondo marittimo che sono ancora connotate in modo maschile. Penso all'operatore del terminal per esempio oppure anche allo stesso operatore della logistica. C'è una crescita lenta, costante. Ora siamo su un 14% di personale femminile. Di questo 14% forse le classi con più ragazze sono le classi di ufficiale di coperta. Un po' meno quelle di macchina, ma decisamente in crescita. Siamo ancora a zero sul settore ferroviario. Gli ITS ferroviari non hanno mai avuto ancora una presenza femminile. Un 2% sugli operatori dei terminal. La logistica un po' di più, ma non numeri stratosferici. Numeri importanti non li abbiamo ancora neanche con chef e pasticceri, dove la percentuale maschile è ancora in maggioranza. Le ultime selezioni di coperta hanno visto una presenza femminile del 12%. Questo è già un dato che ci mostra come la crescita sia in atto. Ha accennato di numerosi corsi di formazione. Qual è la percentuale di impiego di questi ragazzi quando escono dal vostro percorso di formazione e quali sono i settori ad oggi più richiesti, soprattutto nella nostra città? Questo è un dato che non conosce genere. A noi piace parlare di alleanza di genere all'interno dell'Accademia più che di differenza di genere. Quando siamo di fronte alla possibilità di un'occupazione non c'è differenza veramente fra ragazzi e ragazze. Su questo le aziende hanno fatto una grande crescita culturale. La nostra percentuale occupazionale al momento è del 97%, anche perché ci accordiamo preventivamente con le aziende prima di qualsiasi progettazione. Le aziende si impegnano firmando una disponibilità all'assunzione e quindi quando un ragazzo arriva ha già un posto di lavoro che lo attende. Certamente se lo deve meritare con lo studio, con l'impegno, però comunque le aziende partecipe e ha tutto interesse a tenere il ragazzo che si è comportato durante tutto il percorso in modo profittevole. Quindi la percentuale è molto alta. Quali sono gli ambiti? Sicuramente l'ambito della logistica è un ambito ancora in grande espansione, che ha molte possibilità occupazionali, ma così pure il ferroviario, una grandissima richiesta per gli operatori polifunzionali. La cantieristica, tutte le navi in costruzione da fincantieri, ma anche a cantieri dello yachting di alto bordo. Quindi diciamo che le possibilità di occupazione del mondo marittimo sono tantissime. Ancora non note, quello che cerchiamo di fare davvero è di instillare l'informazione sia sulle possibilità che sono davvero possibilità per ragazzi e ragazze. Questo ci tengo proprio a sottolinearlo. Da donna manager, se avesse di fronte una giovane donna che vuole intraprendere questo percorso, qual è il consiglio che si sentirebbe di dare o che di solito ha dato in questi anni? Forse le darei lo stesso consiglio che darei ad un ragazzo, cioè quello di credere nelle sue possibilità e di non perdere mai l'addirittura e l'obiettivo, che è il suo sogno, insomma questo è assolutamente fondamentale, e di mettersi in discussione, ecco, lavorando, 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 ecco. Lavorare è centrale, l'impegno e la fatica pagano, ecco, perché diventano competenza poi spesso e quindi la competenza è quella che fa la differenza. in qualsiasi tipo di lavoro, anche in quello marittimo. Grazie direttore, anzi, grazie direttrice Paola Vidotto e buon lavoro. Grazie a voi, grazie alla vostra redazione che riesce sempre ad essere puntuale e precisa sul pezzo di quelle che sono le necessità e le urgenze della nostra città. Grazie davvero.